E' stata denominata Coffee Break, l'operazione dei carabinieri che ha portato a smantellare uno smercio di stupefacente che aveva come piazza dello spaccio due bar della zona e da cui appunto la denominazione dell'operazione che si è conclusa con l'arresto di quattro uomini e sequestrato un ingente quantitativo di droga e denaro. Fondamentale in questa, come in altre operazioni, la conoscenza approfondita che gli uomini delle stazioni hanno del territorio che battono palmo a palmo ogni giorno. Di fatto utilizzavano questi due bar come luoghi dove tra un caffè e un altro poter spacciare droga agli avventuri con modalità potenzialmente idonee a tenere lontano degli occhi indiscreti. A finire in manette due italiani, un trentenne di Fossombrone e un quarantottenne di Fano, un albanese di 33 anni e un kosovaro di 35 che sono stati arrestati dai carabinieri di Fano nel corso però di due distinte operazioni antidroga, effettuate anche con l'aiuto del nucleo cinefili di Pesaro. I primi due sono stati bloccati dai militari del nucleo operativo di Fano e della stazione di Fossombrone in un bar lungo la Flaminia, dopo uno spaccio. Il trentenne di Fossombrone è stato bloccato all'interno del locale con 10 grammi di cocaina, di cui ha tentato di disfarsi, gettandola in un cestino e con 605 euro provenienti dall'attività di spaccio, mentre il quarantottenne è stato fermato con segni di polvere bianca ancora sulle narici e una banconota arrotolata e intrisa dello stupefacente con la quale probabilmente ne aveva assunto poco prima. In casa di quest'ultimo sono stati rinvenuti oltre 60 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi. La seconda operazione invece è avvenuta in un bar di Calcinelli, dove un 33enne albanese con precedenti è stato fermato dopo aver spacciato una dose di cocaina a due giovani. Addosso gli sono stati trovati 700 euro e un'altra dose di stupefacente. La perquisizione del locale poi ha permesso ai carabinieri di trovare tra la cucina e i bagni, nascosto sotto una finestra, un calzino contenente 50 grammi di cocaina. A casa dell'operaio è stata sequestrata una somma di oltre 7 mila euro, ritenuta probabilmente il provento dell'attività di spaccio. Infine il Kosovaro è stato arrestato in un casolare di campagna nei pressi di Tavernelle di Serrungarina, dove con l'aiuto del cane Wang i carabinieri hanno trovato in un capanno 20 grammi di cocaina e un bilancino di precisione oltre a 1.190 euro. Cane Wang, che a distanza di poco più di una settimana, si è reso responsabile di un altro rinvenimento importante. Ha fiutato e ci ha segnalato lo stupefacente. Tutti gli arrestati sono stati rinchiusi nel carcere di Villa Fastigi, a disposizione dell'autorità giudiziaria, tranne il 48enne fanese che è stato processato con rito direttissimo e condannato a sei mesi con 1.000 euro di multa. Il trentenne di Fossombrone è stato poi sottoposto anche all'obbligo di dimora. L'abanese però resta in carcere e il Kosovaro all'obbligo di firma quotidiana nella stazione dei carabinieri.